E vanno i mostri fino a 4.000 centimetri cubici al borsa in grado, Cario Franchini in seconda, questo è il primo passaggio avanti al treguardo, e benedio del giro fermo, al fonsigrani un pochino più in oltre rispetto all'anno scorso, Prepararsi tre griglie alla Manuspiel della divisione 3, Franchini è decisamente migliorato quest'anno, Franchini è abbastanza avanti per non concedere di assolutamente cerrere, Tanto sta in anellanza della serie di passaggi, per il momento molto a punto, speravamo soltanto in un leggero incremento di potenza, miglioramento di prestazioni della sua, del suo ruolo, il quadro comunque molto vicini, possibile ancora tutto, in questa Manuspiel siamo al secondo passaggio, andiamo anche a vedere un attimo i tempi, i tempi vediamo subito, in quanto si gira a 44.7 km, non male, davanti sicuramente al fonsigrani, tanto che il mondo va a cercare di passare sull'erba all'esterno dell'A.S., è terrapieno, non si avvantaggia neanche di un metro, anzi, forse perde qualcosa, Frank allontano le studio tutte per passare Franchini, ma deve anche portarsi da Casalboni, a ripiastare le tale, ci prova, e ahhh, Frank lo costringe, dove c'è poco spazio, ma era davanti con tutta la macchina, Casalboni non ci sta, tra i due c'è un livello di prestazioni molto simile, adesso, che ha notato all'esterno di Franchini, va a cercare di un'unione di prestazioni, che va a cercare di tre, che fa in stessa guerra, che stavano, che rimette, che vedete Frank, Frank all'orto, che stava passando sul stessa cosa di Casalboni, ci lascia l'anteriore sinistro, non lo vediamo, ma lo immaginiamo da qui da come sta girando, anche per la botta presa con Casalboni, quindi, altro momento no. Grazie.